Sì, avete letto giusto il titolo. Non so perché qualsiasi persona al mondo sana di mente vorrebbe desiderare di fare una cosa del genere. Oggi siamo qui per trovare il modo di eseguire Windows 10 completo, versione desktop, su Raspberry P4. Il candidato migliore è probabilmente KVM per la virtualizzazione. Servirà però un kernel con virtualizzazione abilitata, quindi immagino sarà da trovare una versione di Gentoo con virtualizzazione abilitata oppure compilarsi il car nella mano per avere... non lo so. Però sarà un esperimento divertente e se state vedendo questo video vuol dire che siamo riusciti a eseguire Windows 10 desktop completo su un piccolo Raspberry P4 4GB. Perché è un Raspberry più potente che esista. Non potete neanche concepirlo con 2GB di RAM e non potete neanche concepirlo con un P3. Mettiamoci all'opera e vediamo cosa ne viene fuori. Allora, ho iniziato a fare un po' di ricerche e sono finito su questo articolo che parla di questo progetto GitHub per un installer di Windows su Raspberry. In pratica forse addirittura possiamo evitare di emulare il tutto. Possiamo evitare di usare KVM, di fare tutto il giro, di avere un kernel con la virtualizzazione abilitata, un casino. Sembra molto promettente questo progetto, solo che è per Raspberry P3 ma noi abbiamo un P4 e non demordiamo. Anche perché l'articolo originale qua dice che lo sviluppatore di questo progetto ha fatto questo commento che dovrebbe essere più veloce ovviamente su P4 perché è più potente e non troppo difficile, dice. In teoria basta impostare troncate memory a questo valore, rimuovere questi tre driver, anzi questi quattro e dovrebbe essere sufficiente. Tuttavia forse tocca installarlo prima su un P3 per eliminare un driver della USB e dopo spostarlo sul P4. Ok, può essere un po' un casino. La cosa che mi preoccupa più di tutte però è questa. Se noi prendiamo un convertitore di esadecimale, in decimale è questo. Che diviso 1024 diviso 1024 diviso 1024 dà 1 giga di RAM. Vuol dire che il nostro amico qua sta troncando la RAM a un solo giga. Per qualche ragione strana che probabilmente avere più RAM non funziona ancora o lo fa crashare. Ma noi non demordiamo, ci proviamo lo stesso, ci proviamo lo stesso. Andiamo sul GitHub, andiamo a scaricare l'ultima versione che dovrebbe essere questa. C'è un altro problema che è più di un anno che questo progetto non viene aggiornato. È un peccato perché era interessante, magari non particolarmente utile ma interessante sicuramente. E in più ci serve Windows 10. Ottenere Windows 10 ARM. Clicca su Browse questo qua. Seleziona una build, di solito va bene scegliere l'ultima. Ci serve ARM64 ovviamente perché il processore di Raspberry ha architettura ARM. Che tra l'altro Nvidia si sta per comprare. ARM è in trattativa per essere venduta a Nvidia. Allora devo andare sull'ultima release pubblica che almeno è stabile. ARM64 non cumulativo ma da zero. In grese va benissimo. Prendiamo Windows 10 Home che magari è un po' più leggero. Crea il pacchetto cose varie. Ah quindi non c'è più tipo il scegli area 2 e va bene. Estrai lo zip, una directory vuota. Esegui lo script e aspetta che si completi. E poi troverai una ISO. Fantastico, più facile di così. Facciamoci una bella directory tipo cose. Ah no, ha detto che non vuole spazi. Cose Windowsose. E ci mettiamo dentro tutto quello che abbiamo scaricato. In particolare il nostro amico con Windows che estrarremo dentro qua. Ok. Allora mi dice di eseguire questo .cmd. Io nel dubbio gioco coppe e ci do un'occhiata a vedere se mi stanno truffando, se mi stanno installando. Ok. Ok, non sembra particolarmente cattivo come script. Quasi quasi lo eseguiamo. Vai. Allora. Sono un hacker. Mentre lui downloada cose che nel frattempo si stanno moltiplicando. Distraiamoci anche quest'altro amico. Ok. Ah, c'è tipo un molto molto casino dentro. Fantastico. Però in teoria basta fare doppio clic sull'eseguibile e tanti saluti. Ora, l'eseguibile sarà cattivo con me? Probabilmente l'eseguibile no, ma qualche DLL potrebbe esserlo. Guardate quanta roba c'è qua dentro. Però anche qua, che non so a quanto pare né leggere né scrivere, su 72 antivirus solo due si arrabbiano. Abbiamo Alibaba, Avast, AVG, CarSpecKey, Malwarebytes, Microsoft. Va bene, faremo finta che il file è ok. L'unico mio dubbio è che il nostro Aria 2 qui, quando ci ha chiesto le impostazioni, ci ha chiesto se volevamo l'installer in formato .wim o in un altro formato. A quanto pare era importante perché questo .wim sono tutti e 7 giga di Windows. Quindi, in caso non funzioni, dovremmo rifare tutto quanto con l'altro tipo di formato. Apriamo UoA intanto, dai. Vediamo cosa succede. Ok, allora l'interfaccia è un po' dubbia. Sì, Windows 10 su Raspberry. Devo scegliere il disco. Questa è la microSD del Raspberry. Attenzione a scegliere quello giusto. Perfetto, almeno sappiamo che va bene il formato .wim. Questo qua è tipo semplicemente un balena etcher, ma per Windows. L'immagine è salvata. La sta ammontando, non so perché ci debba mettere del tempo con un progresso per ammontare. Just Like This ci dice premi 0 per uscire. 0. Procediamo con inserire dentro il disco, che è nell'unità F. Ok, ora c'è un 6, che è una SD. Fantastico. Il punto .wim, in teoria lo troviamo. Ah, ma mi ha fatto una ISO. E quindi ora devo montarla, forse. Proviamo a vedere se la monto. L'immagine è montata. Sources. Install.wim. Vai. Ok, l'ha riconosciuto. Attenzione, elimineremo tutto. Eliminate, eliminate. Io ogni tanto me lo pongo il problema di se uno di questi programmi di terze parti che flashano ISO per sbaglio hanno un bug. Magari un errore dell'indice I di un ciclo 4 o qualcosa del genere. Un errore banalissimo che però targettizza il disco sbagliato e ti sovrascrivono il disco sbagliato rispetto a quello che hai selezionato. E meglio non pensarci. Solo che i nostri amici qua dicevano di fare dei bei casini con i driver, o almeno di eliminarli. Ok, in effetti è uscita una nuova directory, quindi teniamola un attimo qui. Vediamo cosa ci dice il nostro amico Viola. Ok, sta solo verificando l'immagine. No, non ce l'ho formato. Windows 10, ARM, sì. Allora, secondo la documentazione ufficiale di Microsoft c'è questo tool disponibile in qualsiasi Windows. Quindi se adesso aprissi un terminale da amministratore e scrivessi Dism, vedete, c'è questa roba per gestione e manutenzione di distribuzione immagini. Solo che a quanto pare bisognava targettizzare direttamente il .wim. Quindi prima di dopo fare il deploy, strano qua, per togliere quei driver. Però questo qua per modificare un'immagine di cui si fa il deploy, magari possiamo andare a cacciarli a mano. Nel frattempo li googlerò tutti e quattro. Raga, allora, abbiamo un errore. Lui comunque ha messo tanti tanti file. Dovrebbe essere quasi completa sta roba. Ma siccome potrebbe non esserlo, probabilmente vorremmo rifare tutto da capo. Infatti il log qua mi dice che non ha trovato una directory che si aspettava di trovare, che si chiama downloaded drivers absp drivers. Non so dove dovrebbe essere. Facciamo una cosa. Rifacciamo quest'ultima installazione da capo, perché ho trovato nel frattempo un altro tutorial. Totalmente testuale, brutta da vedere. Che però intanto parla di firmware UEFI, che effettivamente non avevamo ancora fatto. E però usa un altro programma. Questo qua, per flashare giù l'ISO sulla chiavetta. Quindi proviamo questo programma. Benvenuto su Windows on Raspberry. Oh, figo. Ah, Raspberry P4. I driver usa gli ultimi che trovi. UEFI firmware. Ah, ok, vedi che questo qua è fatto molto meglio. Quindi noi vogliamo andare a scaricare UEFI per Raspberry. UEFI firmware in formato zip. Questo è il tuo zip per il Raspberry P4. Vai. Allora, schermo delle partizioni. MBR, va bene. Stalla con quello che vuoi. Windows memory. Ok, eccolo qua. Memory limit 1024 MB. Quindi già è limitato a 1 GB. Raga, questo qua è fatto molto molto bene. Ok, avanti. Un riassunto. Via! Dai che è la volta buona, dai che è la volta buona. Anche qua lui sta facendo la sua directory di Windows, che ora tra poco si popola. Uh, attenzione, attenzione, abbiamo un successo. Quindi noi ora abbiamo il nostro disco I con tutto quanto e con in teoria anche la partizione UEFI, boot, EFI, già riempita con il UEFI di Raspberry, con teoria compatibile con il P4. Ma non è finita, perché nel nostro tutorial magico dicono altre cose. Allora, abbiamo un problema di cui mi sono accorto. Qua dice, è necessario, è obbligatorio che sia selezionato GPT. Noi invece avevamo MBR, ma non me la fa cambiare. Poi ho anche trovato un'ultraguida che dice, assicuratevi che sia selezionato MBR. E quell'altra, è necessario che GPT sia selezionato. Ma allora mettetevi d'accordo, dannazione. Eh, va bene, siccome noi abbiamo MBR, restiamo su questa guida. Raga, non so più dove sbattere la testa, sono qui dalle tre e mezza di mattina. Va bene, in pratica dobbiamo andare a patchare questo file. Proviamoci con un prompt amministratore, winpatch, il percorso e poi le stringhe, via. Ok, ok, ha patchato. E poi però dicevano di eliminare qualche driver. Potremmo utilizzare bc-edit anche. Lo facciamo, ma sì, lo facciamo. Allora, dov'è la mia partizione UEFI? Boot, eccola qua. EFI, Microsoft, Boot. E qua dentro dovremo trovare bcd, eccolo qua. E questo file vogliamo andarlo a modificare, quindi intendo mi copio questo. Torniamo nel nostro prompt amministratore. Scriviamo bcd-edit slash store per salvare i valori. Incolliamo il nostro percorso. Però ovviamente deve essere bcd, ok? E poi questa parte qua. Recovery enabled no, sembra che l'abbia scritto. E troncate memory questo qua. Giusto per essere sicuri che utilizzi solo un giga di RAM. Allora, poi ci sono da eliminare questi driver, che sono i soliti che diceva anche nella guida originale, raga, che casino. Lui suggerisce di usare Dism++, perché Dism abbiamo visto essere un programma integrato in Windows, solo che da linea di comando è più difficile. Dism, slash, bisogna montare l'immagine, è un po' un casino. Invece se ce ne fosse uno con l'interfaccia grafica, con due clic potremmo fare. Scarica. Allora, abbiamo un Dism++ 64 e ARM 64. Dovrò selezionare l'architettura del sistema ospite, cioè quello attuale, o del sistema che voglio andare a targettizzare per modificare i driver. A occhio quello del sistema ospite? Non lo so. Scopriamolo. Gestione driver. Vabbè, non trovo ad eliminarli, però possiamo aggiungerne. E ho trovato, in realtà, online, questi driver Raspberry P4. Che, allora, se potete, quando stavamo installando con Windows on Raspberry, vi ricordate che nella schermata driver gli abbiamo detto scaricati da internet dei più recenti che trovi? Ecco, se invece di dirgli scaricati da internet quelli generici gli date lo zip del Raspberry P4, è meglio. Io non l'ho fatto perché non lo sapevo. Non ho assolutamente voglia di rininstallare tutto quanto. Quindi proviamo con questo coso, con Dism++. Installagli a mano, in particolare. Ah, fantastico. Questa? Success 1. Aggiungi. Non il PWM, ma la SD. Vai. Ah, ok, posso farli tutti in massa. Fantastico. Va bene, i driver sempre siano installati. Basta, mi sono rotto. Togliamo l'SD. Fuori. E spelli tutto quello che puoi. E vediamo se il Raspberry buta. Bene, eccoci in posizione. Ho tolto la DisplayPort del computer in modo che lo schermo se ne stia spento a meno che non riceva il segnale da Raspberry. Il Raspberry è pronto qua. Non ho connesso né mouse, né tastiera, né ethernet, proprio niente. Voglio solo avere un segnale video. Premiamo il pulsante di alimentazione. Vai. Ma se da un qualsiasi segnale video, ESC, SETUP, ok, quindi questo qua era il Wi-Fi per Raspberry. Quasi quasi io la tastiera di mouse e io li collego. Allora, qualche tutorial parlava della necessità di creare o comprare un cavo che facesse da splitter sulla USB-C, cioè che prendesse in input dalla USB-C, in output dalla USB-C, per fargli arrivare la corrente, insomma, a Raspberry, ma anche avesse una derivazione USB-A, in questa maniera, quindi da USB-C a USB-A, per connettere le periferiche perché per qualche ragione funziona solo la USB-C come porta USB. Non so se questo qua corrisponde al vero, lo dicevano solo alcuni tutorial. Noi in teoria abbiamo fatto quella cosa della patch! Attenzione! Attenzione! C'è un coso di Windows che gira! C'è un coso di Windows che gira, ragazzi! In teoria noi gli abbiamo fatto la patch per la USB, abbiamo sostituito quelle stringhe, quindi dovrebbe funzionare la USB-A. Adesso vediamo. Raga, è appena scomparso tutto. È appena diventato nero. Ok, ok, sta riavviandosi. Ok, però hanno ricominciato a girare i cosettini di Windows, quindi molto bene, almeno qualcosa sta succedendo. Uno schermo azzurro! Raga! Raga, no! Raga, non ci credo. Dai! Dai, forza! Avviati, avviati! Eureka! Abbiamo Windows 10 su Raspberry! E il mouse funziona! Raga! Non ci credo! Lei ha un tastiera? Stati Uniti? Sì, esatto. Sarebbe Stati Uniti internazionale, in realtà. Facciamo T-Connettere a internet? No, mi dispiace, non ci sono i driver, per farlo, Windows. Non ho internet! Primo o poi della community qualcuno svilupperà i driver per la scheda di rete per .com del Raspberry, o per l'Ethernet, o per il Wi-Fi, va bene, qualsiasi cosa. In realtà basterebbe una scheda di rete USB. Basta una qualsiasi scheda di rete USB di quella che trovate su Amazon. Quindi in teoria un qualsiasi dispositivo Wi-Fi USB che possiamo attaccare sulle porte USB di cui abbiamo il driver e quel dispositivo è compatibile con Windows perché tutti quelli USB sono bene o male compatibili con Windows dovremo anche avere internet. Contratto di licenza di Windows nome, overvolt la password, tutto reale, come al solito. Hi! Raga! Raga! Abbiamo Windows su 10! Completo! Sul Raspberry! Bellissimo che leave everything to us voglia dire lascia far tutto a noi ma vuole anche dire lascia tutto a noi. E mi sa che nel caso di Windows quel tutto comprende sicuramente i nostri dati personali e tante altre cose. E siamo arrivati! Raga! Vittoria! Vittoria! Vittoria su tutta la linea! Test mode, vabbè, ovviamente non ho attivato la licenza. È rallentatissimo ma un giga di RAM, poveraccio. È il menu di start, ok? Ok, ok, quello almeno si apre. Esplora le risorse e sta arrivando. Basta! Basta! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto, ragazzi! Vediamo gestione dispositivi, cosa funziona, cosa non funziona. Ah! Dispositivi sconosciuti a manetta. Io nel dubbio provo ad attaccarci anche il cavo di rete. Non avevo mai visto il sistema C di Windows con l'icona di una scheda SD. Bellissimo, bellissimo! Ragazzi, video totalmente inutile ma troppo divertente. È stato veramente figo. Abbiamo trionfato su tutta la linea. Servirà mai qualcosa? Assolutamente no. Però abbiamo dimostrato che si può installare Windows 10 con un giga di RAM su un Raspberry P4. Per questo video è tutto. Ciao a tutti! Ciao a tutti! Grazie a tutti.